E si chiude qui, mio caro Ettore, qual è il gesto di chiusura? Questa è la chiusura. Bravo, bravo, di un'altra puntata di Fanny Moon. Apertura? Fai, vai, Mima, vedete? Apertura? Chiusura? Bravo, sembriamo dei pinguini, sai? Sì, sì, perché viene il freddo tra un po', no? Quindi... Altro riferimento. Altro riferimento, già. Vabbè, abbiamo goduto del cato fino adesso, però diciamolo, che in inverno 2013... Ancora? Vabbè, sì, perché ogni tanto mandiamo qualche servizio vecchio, quindi è giusto cercare di rinfrescarli noi, come dicendo che siamo nel 2013, però con l'anno nuovo, altro riferimento, che abbiamo detto all'inizio, quindi si può dire, ormai abbiamo, come dice... Schiamiamole tutte. Tutta vacca andato, giusto? Si dice così? Sì, sì. Si dice, si può? Tutta porca vacca. Regia, si può? Il pollicione, lì, voglio... Il pollicione non si può. Non mettere l'indice, bravo, si può. Vabbè, l'importante è l'indice, non il... Il pollice. E pure il... Zitto, non lo dire. Se io dico una cosa media, non è che succede niente di male. Oh, ecco, diciamo così. Siamo dalla media. Siamo dalla media. È arrivato il cosiddetto freddo, finalmente. E l'abbiamo aspettato, è stata in estate caldissima, fin troppo calda. È arrivata l'autunno, faceva caldo. Tanto alla fine se fa caldo o fa freddo, se lamentano comunque. Lamentatevi su Facebook, dove lo potete fare anche? Eh sì, eh sì, cosa... Infatti... Cercate la nostra pagina, cliccate, mi piace, si abbassa l'operatore... No, c'è l'operatore. C'è. Oggi c'è, c'è, c'è. Vogliamo dire chi è? Lo sveliamo? Sveliamo il segreto? Sì, io direi il cognome. Allora, si chiama... No, non lo posso, dai, dillo tu, dillo tu, dillo tu, dillo tu, dillo tu. Simone. Simone Nestori, cercatelo su Facebook perché adesso... Aggiungetelo, aggiungetelo, perché i guai che passo io in coppia li devi passare anche tu, maledetto! Esatto, esatto, soprattutto donne, fidatevi, è un bel ragazzo, eh. Sì, 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 avete visto già il pollice, poi vedrete il resto. Esatto. Esatto. Esatto, dopo il pollice, che cosa vedranno il resto? L'indice, va, andiamo avanti. Ok, va bene. Allora, no, ma sta puntata ti è piaciuta? La puntata sarà molto bella. Ho visto un bel Capodanno 2012, questa puntata. No, quella tra un po'. Ma tra un po', ecco, ecco, siamo a retroso, a retroso. A retroso, a retroso, però... Come dicevo mio amico a retroso, non so. Ben presto, faremo una bella festicciola, perché ritorneremo a Red Indian, lo possiamo dire questo? Sì, sì, diciamo, la Red Indian è il nostro Patroners. Chips. Chips. E... bene. Torneremo lì, perché ci sarà una serata per beneficenza, dove noi festeggeremo anche il Natale, con l'occasione anche il Capodanno, diciamolo. Sì, diciamo così. Manca ancora un bel po', non diciamo quanto. Beneficenza, l'altra volta gratis. Quanto manca? Robertino, mai, sgancia. Purtroppo, Roberto, è la crisi economica. Noi per la beneficenza ci siamo. Speriamo che con il nuovo 2014... Ah no, 2013. 12 barra 13. Noi andiamo come gli anni secoli. 17esimo a cavallo. Secolorum. Simon, a che anno siamo? Mimacelo. Metti un 2, un 3, metti qualcosa lì. Un 5, un 2. 25. 2025. Siamo come Back to Future. Siamo nel 2025. L'effetto Serra, come vedi, ha portato il caldo. Sì. Sfogliamo. Sfogliamo. Allora, allora, questa puntata è andata bene. Ritorniamo a bomba. Abbiamo visto tanti servizi che ci ha visto impegnati anche quest'anno, tra la moda... A tutto tondo. A tutto tondo, a tutto tondo, alla moda, spettacoli teatrali, cinema... Ha la pizza anche, eh? Che? Anche la pizza. Sì, perché... Tu non lo sai, però... Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa... Ma però è vero, avete visto un servizio sulla pizza questa puntata? A proposito, ve la consiglio è buona, eh? Sì, ottima, 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 messaggio la consiglio così lo metto. Lo metto, lo metto. Lo metto, lo metto. Loro lo metto, no. Lo pongono, ecco. Allora, andiamo avanti, perciò a 360 ci siamo impegnati con la nostra partnership, con tante e tante iniziative, con Save the Children, siamo stati al Teatro Parioli anche per l'altro spettacolo, con Ciarrapico, con le mie, di compagnie varie che rappresentiamo con la Source of Emotion, per questo noi veniamo e ti alzo questo assist per dire, pertanto, perciò se sei un artista, un attore, un cantante, un ballerino o un artista in genere vuoi anche stare al di là della camera, vedi il pollicione ogni tanto, così passiamo di qua il nostro Ettore che è sempre più preso da tante e tante mille lavori. Un'ex condottrice diceva pregno. Pregno, pregno e come fare, come fare caro Ettore? Chiamate al 333-338-693 per partecipare con noi al nostro programma, quindi se siete un gruppo, un cantante e volete esibirvi, noi vi faremo un bel video e vi manderemo in onda con tanto di intervista per farvi conoscere. Le pare poco? No. Le pare poco? E in più mettete, cliccate, mi piace, mi raccomando, sulla nostra pagina Facebook, Fanny Moon, dove potrete rivedere tutti i nostri video, tutti i nostri servizi. Se avete partecipato con noi, rivedervi e tramite YouTube, iscrivetevi anche sul nostro canale, potete scaricarvi e avere, diciamo, un ricordo della vostra partecipazione con noi. Tutto a gratis. Ripadiamolo. Ripadiamolo, ripadiamolo perché non è discount, non sono cose non professionali, amatoriali. Non costa poco, non costa niente. Bravissimo, non costa poco, non costa niente. Se vi piace questo gingolo, lo smetteremo come gingolo. Sì, perché ce la vediamo a Natale. Bravo, bravo, non gingolo bene. Ce lo inventiamo, sì, sì. Basta, me lo mettete qui, io gli voglio bene, però un po' andatemelo via. Una femminuccia, la carina. Non ti preoccupare, non ti preoccupare perché adesso la puntata è finita. Però ritorniamo la prossima settimana, eh. Grazie a tutti. Anni. Moon.